Nella tarda serata di domenica Israele ha confermato il secondo convoglio umanitario con 17 camioni di aiuti ha attraversato il valico di Raffa in Egitto ed è entrato nella striscia di Gaza. Un cararmato israeliano per errore aveva colpito una postazione ciziana e ha causato un ritardo nelle operazioni. Da lunedì il passaggio degli aiuti umanitari dovrebbe essere a flusso continuo. I timori sul rischio che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto a più ampio raggio in Medio Oriente aumentano di ora in ora con l'intensificarsi degli scontri lungo il confine con il Libano. L'appartimento di Netanyahu. Domenica è stata bombardata una moschea a Jenin in Cisgiordania nel cui sotto suolo si nascondeva, secondo Tel Aviv, una cellula di Hamas e jihad islamica palestinese. La situazione umanitaria a Gaza è ormai catastrofica. Lo denunciano cinque agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma Alimentare Mondiale, secondo cui il danneggiamento di diversi ospedali e l'assenza di servizi igienici potrebbe presto portare alle stelle il numero dei morti per la popolazione devastata dalla guerra tra Hamas e Israele. L'ONU parla di un milione e mezzo di sfollati nella striscia. Resta limitato il sollievo apportato dal primo convoglio umanitario transitato per il valico di Rafa e proveniente dall'Egitto. Lungo la strada l'esercito israeliano ispeziona i camion in transito per verificare la presenza di armi. Domenica di manifestazione in molte città europee. Proteste a Sarajevo, capitale della Bosnia-Herzegovina, contro gli attacchi aerei israeliani su Gaza. Centinaia di persone si sono riunite nella città martire della guerra dei Balcani degli anni 90 per mostrare solidarietà alla tragica situazione dei palestinesi. Manifestazione di segno opposto a Berlino e Londra. Qui migliaia di persone hanno manifestato per sostenere Israele e opporsi all'antisemitismo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha inaugurato una nuova sinagoga nella città di Dessau affermando che la Germania è fermamente dalla parte di Israele. Scholz ha anche dichiarato di essere indignato per l'impennata dell'antisemitismo. I rappresentanti di 250 organizzazioni provenienti da oltre 70 paesi si sono radunati davanti alla sede della Croce Rossa a Ginevra in Svizzera per chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas all'interno della striscia di Gaza. Un tribunale dell'Iran ha condannato due giornaliste per i loro servizi sulla morte di Massa Amini avvenuta il 16 settembre 2022. Una delle reporter, Nilou Farhamedi, è stata condannata per aver riportato la notizia della morte della ragazza a causa del velo indossato in maniera non corretta. L'altra, Elahem Muhammadi, è stata condannata per aver scritto del funerale di Massa Amini. Sono state condannate rispettivamente a 7 e 6 anni di reclusione. Entrambe le giornaliste sono già in carcere da oltre un anno nonostante le ripetute richieste di liberarle da parte di associazioni della stampa internazionale. Sono sempre di più gli ucraini che credono che l'Occidente si stia stancando di loro lo rivela un sondaggio dell'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev. Secondo lo studio, la percentuale di ucraini che crede che l'Occidente spinga per i negoziati con Mosca è aumentata dal 15% di settembre al 30% di questo mese. La maggioranza degli ucraini però resta convinta che il sostegno occidentale resti forte e secondo gli esperti difficilmente si indebolirà nei prossimi mesi. ma il senso che l'Occidentale è iniziato da l'Occidentale. All'inizio di ottobre si è tenuto a Kiev il vertice dei ministri degli esteri dell'Unione Europea per la prima volta al di fuori del blocco, in segno di solidarietà e sostegno all'Ucraina. La Svizzera vira sempre più a destra. L'Unione Democratica di centro, Udc, destra conservatrice anti-europeista, è la grande vincitrice delle elezioni per il rinnovo del Parlamento federale in Svizzera stando alle proiezioni nazionali dopo la chiusura delle urne. L'Udc, già primo partito in Svizzera, cresce del 3,4% e arriva al 29% dei voti guadagnando 8 seggi al Consiglio nazionale, uno dei due rami del Parlamento di Berna. I 246 parlamentari voteranno il nuovo governo il prossimo 13 dicembre. Un anno fa il nuovo governo italiano di destra radicale ed euroscettico destava preoccupazione tra le democrazie europee. Come può essere valutato il primo anno di mandato da Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni? È riuscita ad allontanarsi dalla sua immagine neofascista? Nell'ultimo anno le politiche interne della Meloni sono state chiaramente in linea con la sua ideologia radicale. Sicuramente c'è stato un tentativo di smarcarsi dall'etichetta neofascista. Il tentativo mi sembra solo parzialmente riuscito. Come riassumere le scelte politiche in materia di diritti civili nei primi 12 mesi di governo Meloni? Le tre misure più importanti sui diritti civili sono state il rendere la GPA un reato universale, avere favorito in qualche maniera che i prefetti non riconoscessero in maniera automatica i figli nati da GPA che venivano dall'estero e le recenti misure sulla natalità. Meloni ha detto molto chiaramente che le donne che hanno più di due figli danno un contributo alla società. C'è l'idea che la famiglia naturale che deriva dalla coppia, diciamo, eterosessuale è la cellula fondamentale della società. Famiglie che sono fatte da coppie di persone di sesso, dello stesso sesso, oppure famiglie che sono fatte da un solo genitore, oppure persone che decidono di non avere figli. Queste persone dovrebbero venire discriminate, hanno di fronte allo Stato un valore inferiore. Nella politica estera, la Meloni si è destreggiata tra l'allontanamento dall'anti-europeismo che ha segnato la sua carriera politica prima dell'ascesa al governo e il mantenimento delle alleanze con i governi di estrema destra come quell'ungherese. Il suo obiettivo fondamentale è stato proprio quello di consolidare un'immagine affidabile, diversa da quella che era stata dipinta dai media internazionali. La situazione potrebbe essere descritta in questi termini. L'Italia ha bisogno dell'Europa, tanto quanto l'Europa ha bisogno dell'Italia. Meloni ha dovuto trovare un modo di lavorare con le istituzioni europee e viceversa le istituzioni europee hanno dovuto sforzarsi per lavorare con Meloni. La sua politica migratoria ha rivelato la stessa ambiguità. L'accoglienza generosa verso gli ucraini è un caso straordinario di doppio discorso sull'immigrazione e sull'asilo. Rifugiati di certe guerre, Afghanistan, Siria e altri paesi del sud del mondo, dell'Africa, quelli non vanno bene, non ci piacciono, non suscitano moti di solidarietà. Mi sembra un anno di passi indietro sul piano del rispetto dei diritti umani e della solidarietà. A largo di Portland, cittadina costiera nel sud del Regno Unito, i riflettori sono ancora una volta puntati sulla chiatta Bibi Stockholm. Si tratta di un'imbarcazione di 222 stanze e tre piani, noleggiata dal governo britannico per 18 mesi, che qui al Port ha attaccato già a luglio, ora è ritenuta nuovamente sicura. Il Ministero degli Interni britannico ha di nuovo iniziato a imbarcare i migranti dopo che erano stati allontanati ad agosto in seguito alla scoperta del batterio della legionella. Non fa nessun senso a me. Non credo che non fa nessun senso a maggiori persone che hanno un'esercito per altri umani. Penso che maggiori persone sono fatti della demografia che è, che è un uomo, un uomo singolo, e questo è proprio lui. Deve potrebbero processare i silenziali proprio, e se il suo concetto è valido, dovrebbero essere integrati nella nostra comunità. Io non credo di mantenermi come prigionati. Mentre continua il dibattito su cosa fare dei richiedenti asilo nel Regno Unito, la chiatta BB Stockholm, che alla fine ospiterà un totale di 500 uomini, è considerata parte importante del Migration Bill, la nuova legge anti-immigrazione clandestina voluta dal governo di Rishi Sunak. Ma ci sono ancora 175 mila persone in attesa di asilo. A barge in a port on private property behind these barriers intended to show there was no luxury in the UK's asylum process. But as well as Legionella bacteria, a type of pneumonia being found on board, concerns were also raised about fire safety and about far right activity in the area. But the UK government says the barge is now safe again and will reduce the cost of keeping asylum seekers in hotels. I think it's an interesting strategy, but I'm not sure how comfortable the local people are having the barge sat there with that big group of people. There's lots of people coming over, being assessed as to whether they're economic migrants or refugees. I guess there's a backlog. People need to go somewhere. I'm not sure if this is the right place where they need to go, but they need to go somewhere. Una nuova richiesta di controllo giurisdizionale per contestare la presenza stessa della BB Stockholm a Portland è stata presentata all'Alta Corte del Regno Unito. Ma il Ministero degli Interni britannico conferma di essere fiducioso che la CHIAT ospiterà i richiedenti asilo in modo sicuro e protetto.